Ciao, io sono Enola e nella vita sono un'educatrice o un centrocinofilo. Ho scelto di partecipare al corso di Wedding Dog Sitter un pochino per curiosità. Mi interessava capire come funzionava un'azienda così strutturata e anche così grande, insomma così importante. Una realtà nuova, particolare, quindi diciamo per curiosità principalmente per l'impostazione aziendale. Le mie aspettative per questo corso erano sicuramente di riuscire appunto, come ho detto, a valutare quella che era l'impostazione aziendale e anche di capire delle informazioni da poter applicare magari nella mia attività. In realtà direi che le mie aspettative sono state perfino superate, nel senso che ho ottenuto quello che volevo e anche tante informazioni in più e soprattutto ho scoperto una realtà che mi piace molto, molto interessante. Non credevo che il mondo del Wedding potesse affascinarmi così tanto, ma in relazione con i cani mi è proprio piaciuto. Questo corso mi ha permesso assolutamente di capire come questa professione cinofila si distanzi molto dalla realtà delle professioni cinofile. Alla base ovviamente la passione per i cani, l'amore per i cani, ma un qualcosa di decisamente nuovo, approcciato a quello che è già un'altra grande realtà, un'altra grande macrofamiglia che è quella del Wedding e quindi un'unione molto particolare, sì assolutamente. La cosa che mi è piaciuta di più è scoprire sicuramente una realtà che comunque è una realtà cinofila, ma è una realtà nuova. Quindi io non mi sono mai sposata, non sono avvezza al mondo dei matrimoni, eppure guardandola dal punto di vista cinofilo, perché comunque al centro c'è sempre il cane, innanzitutto mi ha molto attirato verso un mondo che, ripeto, era molto lontano dalle mie corde. E mi è davvero... ha fatto sì che il matrimonio mi arrivassero a interessarmi davvero tanto, cioè mi è piaciuta tutta la parte organizzativa, quanto sia scrupoloso, tutti i protocolli che vanno seguiti, quanto sia di fatto un lavoro difficile. Quindi serve davvero tanta cura e tanta attenzione, è un giorno irripetibile. Già nel momento in cui prendiamo in custodia un cane è sempre una grande responsabilità. Qui mi sembra che la responsabilità sia quintuplicata. È davvero... è davvero un qualcosa di importante. Il matrimonio è una volta sola, si spera. Penso che questo corso sia molto importante per chi lavora già con i cani, per me in primis. permette di capire una realtà nuova, una realtà che forse si discosta anche, anzi sicuramente si discosta dal discorso educazione, dove però è sempre fondamentale la lettura del cane, una certa sensibilità, un approccio forse un pochino più istintivo, più naturale, che purtroppo anche per me che sono un educatore, a volte noi educatori andiamo un pochino perdendo presi oberati da tante nozioni tecniche, da tanti tecnicismi, a volte ci perdiamo un pochino l'istinto e in questo lavoro invece è istinto nella gestione del cane. Ovviamente tutto strutturato dietro a un'organizzazione che invece di istintivo ha molto poco, ma è molto precisa. Mi aspettavo che fosse una professione complessa. Detto questo, forse la cosa che non avevo ben chiara era davvero la grandissima responsabilità, nel senso che appunto prendere in custodia il cane è sempre una responsabilità, ma questi giorni mi hanno permesso di capire che qui la responsabilità è davvero immensa. basta nulla per mandare all'aria un giorno importantissimo. Quindi sì, la credevo complessa, a livello di responsabilità non la pensavo così ingombrante, così importante. Per me l'aspettativa di questo corso era riuscire a capire come è strutturata questa tipologia di azienda, quindi un'azienda marketing first e da questo punto di vista sicuramente le aspettative sono più che appagate, nel senso che a livello aziendale è risultato molto interessante e addirittura aspettative superate, nel senso che hanno fatto in modo di rendere interessante proprio la professione del wedding dog sitter in sé, che è una cosa che mai avrei pensato nelle mie corde. Penso che questo corso sia adatto a chi è già un professionista cinofilo, permette una lettura e una visione che si discosta da quelle che sono le normali professioni cinofile e un punto di vista diverso, secondo me, è sempre un vantaggio in qualsiasi professione. Penso che sia anche un ottimo punto di portenza per iniziare a rapportarsi con i cani, con i clienti, che comunque sono sempre clienti e in particolar modo in questo caso clienti molto esigenti, ovviamente le spose e gli sposi. Consiglierei il corso a tutte quelle persone che sicuramente vogliono entrare nel mondo del wedding. Lo consiglierei anche a chi ha un'azienda in campo cinofilo non inerente al wedding perché comunque l'impostazione di questa azienda è davvero interessante e ci sono spunti da applicare nelle nostre realtà.